Da domani entrano in vigore i nuovi orari per la funicolare di Montevergine. Ebbene sì, sarà possibile raggiungere il santuario di Mamma Schiavona anche nel tardo pomeriggio, grazie all'aggiunta di nuove corse a cominciare dalle 8 del mattino fino alle 19. Resta invece invariata la frequenza, ogni 45 minuti nei giorni feriali, ogni 30 minuti nei giorni festivi. Il nuovo orario risponderà anche alla grande richiesta prevista per il prossimo fine settimana e per il giorno di ferragosto. Restano invece invariate le tariffe per usufruire della funicolare. 8 euro per andate e ritorno, 5 euro per la corsa semplice. Per le comitive superiori alle 20 unità e per i residenti il costo del biglietto andate e ritorno è di 5 euro a persona. I bambini invece fino a 12 anni viaggiano gratis.